ciao a tutti e benvenuti in questo video sono morto e ho tagliato un pezzo giù da questo e sopra qua mamma mia ho bevuto qualcosa sennò morivo ricominciamo così non vedete niente ho sbagliato scusate che vedete no ma si vede usate un altro posto sicuro tenere in mano il telefono non è una bella idea ma vediamo come fa vabbè qua intanto non ci passo devo andare su ok ok vedete qualcosa vedete qualcosa si vuoi andare sulla porta ok vedete non ci passo non ci passo non ci passo ho tagliato tutto sopra vedete l'avete visto vabbè ve l'ho fatto vedere dopo tagliare tutto giù taglio questa taglio questo taglio questo taglio questo e basta mi vado a riposare già le sede già le sede dove andare a casa casa mia questa è casa mia ma è da rifare vi faccio vedere anche il muratore che lavora una poca lavora porterò anche quelle galline e conigli faccio un pollaio dopo qua chiudiamo tutto facciamo un muretto fino a giù come un muretto là basta però di sassi quei sassi li vanno tutti qua a fare un muretto vabbè vi faccio vedere come un muretto vi faccio vedere come taglio qua che riesco e non riesco ci salutiamo qua se no sto stanco quindi così vediamo si 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 Ok, ho puntato, ho fatto male da solo lui, no, quella, ok, arrivo. Questa è il nostro corso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.